Nessuna soluzione per gli scavi archeologici, mancanza di cautela per le antiche basole vulcaniche e assenza di un'idea complessiva su come finalizzare i lavori nell'area interessata. A richiamare ancora una volta l'attenzione sui lavori di riqualificazione, recupero e rifunzionalizzazione del lungomare Regina Margherita è l'ordine degli architetti di Berindistiche attraverso una lettera indirizzata al sindaco Consales, alle soprintendenze architettoniche e passeaggistiche archeologiche provinciali e regionali e firmata dal presidente dell'ordine Fulgenzio Clavica, sottolinea la perplessità dei membri e cittadini in riferimento alla qualità dei lavori finora effettuati, premettendo la propria posizione critica rispetto alla procedura di affidamento anche dei prossimi lavori di ristrutturazione di via del mare. L'attenzione nel particolare è principalmente richiamata sul lungomare sulla mancata occasione di creare un'area che potesse essere integrata dagli scavi archeologici ritrovati durante la rimozione della vecchia pavimentazione. Secondo quanto lamentato, sono state carenti le soluzioni che potessero valorizzare al meglio quanto scoperto e quindi la mancata considerazione delle potenzialità di richiamo turistico da utilizzare anche a favore dei commercianti, ristoratori e albergatori della zona. A partire dalla pavimentazione fino alla redurbano, secondo gli architetti, le soluzioni immaginate non sarebbero adatte e lungomare sarebbe stato trattato addirittura come una qualsiasi strada periferica. La proposta di collaborazione con il Comune arriva non a caso in un momento come questo, che vedrà a breve un nuovo appalto dei lavori della fase successiva per la quale l'Ordine mette a disposizione le proprietà per un miglioramento e nuovi modelli progettuali. Grazie a tutti.